Io ho letto le agenzie di stampa, devo dire che bisogna sempre essere, lo dico a voi che siete attenti ai processi democratici, bisogna sempre essere attenti a non buttare il mostro in prima pagina. Questo come criterio generale, nello specifico naturalmente rimango molto amareggiato, ricorderete di essere stato io uno dei pochi politici che in aula è andato in tribuna e ha denunciato la mafia dell'antimafia, nel silenzio generale della stragrande maggioranza del Parlamento. Lasciamo lavorare la magistratura e però lasciatemi anche dire che l'industria dell'antimafia in Sicilia deve chiudere battenti. L'antimafia finta non può consentire anche in politica facili carriere. L'antimafia si predica nel dovere del silenzio, giorno dopo giorno.